Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come La confessione di Carlo Conti ha spiazzato tutti quanti. Quel corteggiamento durato anni e non stiamo parlando di quello fatto a sua moglie In molti si sono chiesti a chi è corso dietro per così tanto Conti? Il corteggiamento durato anni di Carlo Conti, il quale l'ha tampinato per molto tempo Ci spiace deludervi, ma non stiamo parlando di quello riservato a sua moglie, qui Conti è andato dietro per molto tempo ad un altro personaggio Ecco la confessione SoC che ha lasciato tutti senza fiato.Carlo Conti è il noto conduttore televisivo, famoso per aver condotto programmi epici quali tale quale Show, L'eredità, Affari tuoi e così via La sua bravura è conosciuta in tutta Italia, così come la sua gelosia nei confronti della sua privacy Sappiamo che è sposato con la costumista, Francesca Vaccaro dal 2012 e i due anni un figlio, Matteo Dopo questo ci chiediamo, ma se la corte non l'ha fatta alla sua famiglia, a chi l'avrà fatta? Carlo Conti è il corteggiamento spietato durato anni.A proposito di corteggiamento, di cui vi sveleremo tutto a breve, finalmente Carlo Conti ha rivelato il motivo di quella sua mania, tanto prese in giro sui social Stiamo parlando della sua ossessione all'abbronzatura perfetta, 365 giorni all'anno Cambia l'anno, cambia il programma, cambia l'emittente, ma la tintarella di Carlo è sempre perfetta Conti in una recente intervista ha dichiarato che lui ama vedersi con la tintarella sempre perfetta e che, dopo tanti anni non riuscirebbe proprio a vedersi con un viso pallido Il conduttore ha un tipo di pelle che si abbronza subito, come ha dichiarato, quindi in estate va spesso al mare e in inverno, ricorre alla lampada di centri specializzati Rigorosamente protetto da crema solare, Carlo Conti ci tiene alla sua pelle e alla sua salute Carlo Conti ha confessato di aver fatto una corte durata anni, all'attore Alex Belli Probabilmente un simile corteggiamento non l'ha riservato neanche a sua moglie, chissà Ma come mai chiederete voi di tutte queste attenzioni del conduttore all'attore? Semplice, Conti sono anni che vorrebbe Belli al suo programma Rai, tale quale show e finalmente quest'anno il personaggio pubblico ha accettato Ecco cosa ha dichiarato in merito Belli, è da diversi anni che Carlo Conti mi proponi di partecipare al suo programma Tuttavia si sono sempre sovrapposti impegni tali da impedirmi di accettare E la volta buona… Tra i tanti personaggi che mi piacerebbe imitare spicco notiziano ferro, Mario Biondi e Antonello Venditti Ogni 5 minuti il mio coach di canto mi manda degli input che trovo molto interessanti Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video